andiamo a fare la solina con un nodo semplice però a nodi alternati in questa maniera su in alto e a destra troverete questo tutorial per iniziare il lavoro questo nodo qui che ho appena fatto mi raccomando adesso blocchiamo vabbè il filato è grossolano grosse norme però è per farvi vedere meglio il nodo allora a sinistra io vado a destra passando sotto senza creare nodi creo il primo nodo e vado sopra ad unirlo passo sotto senza creare nessun nodo e crea un nodo a sinistra e così alterniamo fino a quanto vogliamo grande la solina la sola io la chiamo a sola ecco questo il modo più veloce per lavorare avete anche il tutorial che vi ho già inserito in questo noto sempre su un altro e destra troverete il link ecco perché sto correndo perché già ho creato il tutorial un po più lentamente però è semplice dovreste saperlo fare ormai così andrete a creare tutte le asole che vi possono interessare per ok ho finito sia per bracciali che per collane e tutto il resto eccolo qua veloce e semplice magari per non lasciare troppo vuoto e far vedere troppo il colore andate ad unire ed ecco qui la solina questo sarà il retro e questo è il davanti ho incollato e bloccato il filato che si era sciolto prendiamo ecco questa sola così e in mano è più semplice sinceramente questo filato qui che non andiamo ad operare bloccato lo in qualche maniera e andiamo a lavorare in questa maniera 123 magari ecco dall indietro 5 6 7 abbiamo fatto 7 facciamo anche 8 8 adesso dovete stare attente a non far girare l'asola e andiamo ad inserire il filato sotto come abbiamo fatto prima facciamo entrare il filo tiriamo tiriamo i nodi verso l'asola così si stringe vedete in questa maniera e andiamo a formare l'asola ecco qui se aggiungete dei filati qui questo poi verrà naturalmente verrà tagliato oppure lo tagliate da qui lo bruciate ok eccolo qua questo è un modo semplice veloce per fare una sola questo è un modo per fare la solina e questo è il secondo adesso fermo questo ci vuole poco più di tempo ok adesso si è allargato ma sicuramente è questo invece è il secondo modo per fare le asole se ti è piaciuto a questa mini lezione fammelo sapere nei commenti grazie e anche con un bel like ciao ciao alla prossima ciao a tutti 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 ciao a tutti